Lo stesso problema che affronta ogni interlocutore, stress, tensione. Perché? Perché? Perché lo stai rendendo universale? Lo stai supponendo? Ok, sei stressato e teso e cosa? E un altro punto? Sposarsi e camminare sul sentiero dello yoga per raggiungere la destinazione? Non sposarsi e andare sul sentiero dello yoga. Qual è il modo migliore? Ha chiamato sua moglie e i figli stress, tensione, tortura. Moglie e due figli. Stress, tensione, tortura. Come mai? Non voglio che tu percorra il sentiero dello yoga. Qualunque dannato sentiero tu stia percorrendo, porta lo yoga con te. renderai il sentiero facile e bello. Che tu vada a nord o a sud, se è buio prendi una torcia. Non è così? Solo le persone in direzione nord prendono una torcia. Le persone del sud prendono il buio con voi? Esiste una cosa simile? No. Che tu ti sposi è per via delle tue necessità. Non sei nato con tua moglie. Lo sei. Sei nato così. Un essere umano completo. Siccome hai certe necessità, fisiche, psicologiche, emotive, forse finanziarie, sociali. C'è anche quello, giusto? Quindi, varie necessità. Si suppone che il matrimonio in generale sia un pacchetto che gestisce tutte queste necessità. Necessità fisiche, psicologiche, emotive, sociali, a volte anche finanziarie. E' un pacchetto completo. Per cui, se ti sposi, tutti questi problemi vengono risolti in un colpo solo. A volte potrebbero rifiutarsi di soddisfare alcune delle tue necessità. Quindi, diventi stressato, teso e torturato. Voglio che tu capisca. Ti sei sposato per il tuo benessere. Non come sacrificio per il bene di qualcuno. Ti sei sposato per le tue necessità e il tuo benessere. Non è così? Faresti bene a ricordartelo per tutta la vita. Ti sei sposato e hai legato l'altra persona a te. Perché hai delle necessità. Non lo hai fatto per il bene dell'altra persona. Sì o no? Siamo chiari su questo. Sì o no? Sì. Ricordatelo. Se te lo ricordi, vivrai con un po' di gratitudine. Ok, se non tutti e cinque i pancia, sai le cinque necessità. Almeno due ne soddisfi per me. Grazie mille. Non è così? Tutti e cinque perfettamente. Forse non le hanno soddisfatte. Almeno due o tre le hanno soddisfatte, giusto? Tuo marito o tua moglie lo hanno fatto. No? Se non avessero soddisfatto nulla, non penso che saresti ancora lì. Sì o no? Se non avessero soddisfatto nessuna delle tue necessità, non penso che saresti ancora lì. Stanno soddisfacendo alcune necessità. Alcune cose forse non sono in grado di soddisfarle. Così anche tu. Anche tu non sei in grado di soddisfare tutte le necessità dell'altra persona. Alcune le soddisfi, altre no. Non è così? Allora perché questo è diventato stress, tensione e tortura? In qualunque modo tu l'abbia fatto finora, non importa. Se hai la volontà, in tre giorni, non importa quanto brutta sia la tua situazione, in tre giorni puoi portarla a una parvenza di pace. Se non amore, se non estasi, almeno puoi portarla a uno stato pacifico in tre giorni. Se ne hai la volontà, al cento per cento. Sì o no? Almeno puoi stare zitto. Semplicemente. Qualunque cosa accada. La pace accadrà. E forse loro l'ameranno. Quindi, non percorrere il sentiero dello yoga. Qualunque sia il sentiero, devi portare lo yoga con te. Se porti lo yoga con te, illuminerà il tuo sentiero. Qualunque sentiero tu abbia scelto. Hai scelto il tuo sentiero in base alle tue necessità. Lo hai già fatto. Quindi, quello sta a te. Coloro che non lo hanno fatto, vorrei che sceglieste il vostro sentiero. Non sulla base delle vostre necessità compulsive, ma delle vostre necessità consapevoli. Quando giunge quello stadio nella tua vita, è il momento di osservare consapevolmente la tua vita e vedere. Le necessità di oggi significheranno qualcosa per te dopo 5 o 10 anni. Varrà la pena legare la tua vita per i semplici bisogni che hai oggi? Oppure questi sono solo dei bisogni passeggeri per te? Se hai un bisogno davvero forte, ti devi sposare. Se non hai un bisogno forte, hai un bisogno passeggero. Puoi risolvere le tue necessità probabilmente andando al cinema. Quindi nessun bisogno di sposarsi, sai? Sì, molte persone sono così. Le loro necessità non sono molto forti. Passano e basta. Ma la struttura sociale dice loro lo devi fare. Non necessariamente. Deve essere una scelta consapevole. In qualunque direzione tu vada, deve essere una tua scelta consapevole, non scelte compulsive. Perché se scegli il modo compulsivo, te la prenderai sempre con le persone intorno a te. Siccome ti senti uno schiavo e non ti piace, allora te la prendi con loro e loro se la prenderanno con te. Quindi, non si tratta di ciò che stai facendo, si tratta di come lo fai. Cosa stai facendo? Dipende dalle nostre esigenze, ma come lo fai determinarà la natura della tua vita. E' un vantaggio camminare da solo piuttosto che camminare con delle persone? Sì, se vuoi camminare velocemente. In Africa ci hanno detto, dicono, se vuoi camminare veloce, cammina solo. Se vuoi camminare a lungo, cammina in compagnia. Se stai facendo un viaggio a lunga distanza, è meglio avere compagnia. Se cammini per una breve distanza, vuoi camminare molto velocemente, è meglio andare da solo. Non è così? Gautam ha detto un'altra cosa. Quando qualcuno gli ha fatto la stessa domanda, ha detto, è meglio camminare da solo che camminare con uno stupido. Perché guardando te, gli è molto chiaro chi altro ti sposerà. Questo è il modo di operare di Gautam. Ha detto, lui scoraggia sempre le persone dal prendere compagnia. Ha detto, questa vita è un cammino breve. Perché hai bisogno di compagnia? Quando lasci questo corpo, è un lungo posto. Là, io ci sarò. Questa è l'offerta. Ma tu pensi, la vita è lunga. Così forse hai bisogno di compagnia. Se hai bisogno di compagnia, prendila. Ma come conduci questa compagnia è molto importante. Se vuoi condurla sensatamente, una delle cose più importanti che devi fare, particolarmente con i tuoi bambini, devi fare questo. La tua struttura psicologica ed emotiva dovrebbe essere intorno al fatto basilare della vita. il fatto basilare della vita è che sei mortale. La tua struttura psicologica ed emotiva dovrebbe essere formata intorno alla tua mortalità. Questo è della massima importanza. se fossi costantemente consapevole che questa è una vita breve, in qualsiasi momento morirai in realtà. Allora organizzeresti la tua vita e condurresti la tua vita in un certo modo. quando sai che il tempo sta scorrendo via, in qualsiasi momento sarai messo K.O., non hai tempo di arrabbiarti con qualcuno. Non è così. Non hai più tempo di litigare con qualcuno qui. Non hai più tempo di stare seduto lì depresso per tanto tempo. perché tic, tic, tic se ne sta andando. Siccome la tua struttura psicologica è organizzata intorno alla tua immortalità, a causa di ciò hai tanto tempo per litigare, per essere depresso, per essere frustrato, per agitarti, per essere furioso. Hai tanto tempo. Quindi è molto, molto importante che ognuno organizzi la propria struttura psicologica ed emotiva intorno alla natura mortale della nostra esistenza. Dopotutto, sei solo un portatore di testimoni tra l'ultima generazione e la generazione successiva. Non è così? Sì? Per un breve tempo è nelle tue mani questo mondo. In seguito, qualcun altro lo prenderà. Vedrai, prendere il testimone della generazione precedente avviene nei modi più brutti. Il passaggio del testimone alla generazione successiva avviene in modi orribili semplicemente perché la mente della gente è strutturata intorno alla loro convinzione di immortalità. Non vedono che sono mortali. se sei costantemente consapevole che sei mortale il buon senso sorgerà naturalmente in te. Non avrai tempo per la stupidità. Supponi di essere consapevole che domani morirai. Passeresti la giornata di oggi litigando con qualcuno. Perché il tuo tempo sta scorrendo, non è così? E il tuo tempo sta scorrendo anche ora. non dopo che il dottore ti diagnostica qualche orribile malattia. Anche ora sta scorrendo. Non è così? se vuoi esplorare la possibilità di ciò che questo è l'immensità di ciò che questo è allora il tempo scorre troppo rapidamente. E il tempo è un'esperienza estremamente relativa. Se sei gioioso e beato anche se vivi fino a cento anni è una vita molto breve. È finita in un attimo. Quindi in questa breve vita dove trovi il tempo per stress tensione e tortura? Non so dove tu trovi il tempo. È semplicemente perché pensi di essere immortale. Questo è il più grande errore che hai fatto. È solo un breve viaggio. Devi condurlo con quanta più grazia e beatitudine possibile. Se non conosci il cosmo almeno devi conoscere questo pezzo di vita prima di morire. Questo deve accadere a ognuno.